wow a noi vengono i brividi ma volano no sì oi gente ciao a tutti siamo ricky eteo and this is allora siamo qui e oggi porteremo una canzone italiana che è uscita ieri sera esatto di un festival che voi magari non conoscete però è qui in italia sanremo il festival di saremo è uno degli eventi più importanti della cultura comunque della canzone italiana e anche della televisione e ogni anno si esibiscono cantanti dai più giovani ai più storici diciamo fanno la gara il vincitore arriverà all'eurovision esatto magari l'avete già visto perché l'abbiamo già portato due o tre volte mi sembra sul canale mamma insieme a blanco che adoro adoro mamma adoro blanco adesso guarderemo il video di brividi perché vabbè la canzone l'abbiamo già sentita ieri sera in live quindi se non siete ancora iscritti al nostro canale subscribe iscrivetevi se volete seguirci su instagram tionse board richard su tiktok richi e teo e iniziamo subito ovviamente ragazzi tutte le canzoni del festival sono inedite quindi nuove quindi è uscita ieri questa io ho scontato solo una volta al vivo quindi non la ricordo i suoi video sono sempre molto estetico mi facciamo un sacco anche blanco una voce io lo amo 18 anni no no scusate ma non so ancora le parole wow a noi vengono i brividi molto bene il look vino se sapete dove hanno girato i video ragazzi commentate perché io non penso sia in italia neanche secondo me è bellissimo secondo me in inghilterra no o tipo olanda quei paesi lì poi le loro nuove voci insieme fanno qualcosa di lì che entrambi sanno fare questi acuti e poi sanno rappare cioè è assurdo specialmente blanco passano in due secondi così da una cosa all'altra wow che ci sbuttiamo ogni giorno io non la voglio più addosso molto bella anche le parole sono amici di diamanti uno fra tanti lo toccano i brividi a volte non si esprime il mio io i brividi davvero e non esiste la parola che dico monotonia non so perché ho visto sta monotonia ma volano no sì stavano volando tipo it ok abbiamo finito la monotonia questa parola non è presente nella canzone non so perché io continuavo con sta monotonia vabbè comunque fateci sapere cosa ne pensate a noi almeno a me è piaciuta tantissimo io lo dico secondo me vincono il festival anche secondo me veramente ovviamente auguro anche tutti gli altri auguriamo il meglio tra l'altro ragazzi se conoscete qualche altra canzone volete che vi portiamo altre canzoni italiane perché spesso ce lo commentate portateci anche i vostri artistici ci dite visto che noi ragioniamo sempre i vostri fateci sapere quali sia del festival che non però bellissime tante altre ma questa è un qualche brividi vabbè fateci sapere voi cosa ne pensate se non siete ancora iscritti al nostro canale subscribe iscrivetevi se volete seguirci su instagram tui onseboard richard su tiktok richieteo e ci vediamo con un prossimo video ciao a tutti ciao a tutti ciao a tutti ciao a tutti